Era diventata il simbolo della resistenza al governo del presidente del Nicaragua Daniel Ortega. Per questo la città di Masaia è stata occupata ieri da forze di polizia e da formazioni paramilitari fedeli al regime. Situata a 30 chilometri dalla capitale Managua, nel territorio della comunità indigena di Monimbo, Masaia è tornata sotto il controllo delle forze fedeli a Ortega dopo sette ore di scontri che avrebbero provocato, secondo la stampa locale e l'Associazione Nicaraguense per i Diritti Umani, almeno tre morti e numerosi feriti. Le vittime accertate sono un agente di polizia, un ragazzo di soli 15 anni e una donna colpita mentre era affacciata alla porta di casa. Secondo le stesse fonti però il numero dei morti sarebbe più alto ma impossibile da verificare perché Masaia è circondata dalle forze governative che impediscono l'ingresso in città. Ancora una volta è la Chiesa Cattolica a fare sentire la sua voce per una soluzione pacifica della lunga crisi politica che sta travagliando il paese. Piangendo tutti i morti e pregando per le loro famiglie è stato il nunzio apostolico in Nicaragua, Monsignor Valdemar Stanislav Somertag a lanciare un appello alle coscienze di tutti per raggiungere una tregua e permettere un rapido ritorno al tavolo di un dialogo nazionale. Il nunzio apostolico, anche egli nei giorni scorsi vittima insieme ad altri vescovi nicaraguensi di violenze da parte di paramilitari fedeli al Presidente Ortega ha sottolineato, anche a nome di Papa Francesco, che non è accettabile pensare che i morti e le vittime della violenza possano risolvere la crisi politica e garantire un futuro di pace e prosperità al Nicaragua.